Sì, salve, sono il dottor Colombini dell'Asla Toscana Sud-Est, Dipartimento di Igiene. Salve, la chiamo in merito al tampone che aveva fatto per comunicarle che purtroppo è risultato positivo. La sto contattando perché in questo modo possiamo aprire il suo caso sul nostro portale SISPC così da seguirla in maniera più efficace ed efficiente e in questo modo almeno possiamo eventualmente vedere e rintracciare i suoi contatti e le altre persone conviventi che magari ha visto o che stanno in casa con lei. Procede a pieno ritmo il lavoro nella centrale di tracciamento che si trova ad Arezzo Fiere Congressi. Qui dal 5 novembre lavorano professionisti e laureandi delle professioni sanitarie per individuare i contatti di un caso positivo al Covid-19. La media è di 2,5 persone, ogni positivo ad oggi sono 3.200, i positivi contattati di cui 900 arretrati, tutti smaltiti. Non tutti questi 2,5 N moltiplicatori poi dovranno fare il tampone o sì? Dipende in che situazione si trovano, se sono conviventi, se sono contatti stretti ma non conviventi, la situazione cambia, i contatti stretti non conviventi fanno un tampone al decimo giorno dall'ultimo contatto avuto con il caso. Entro giovedì prossimo arriveranno altri 50 laureandi a Arezzo, processerà anche i casi del Grossetano. Il lavoro che c'è dietro a queste scrivanie è tanto come ad esempio dover ricostruire i contatti dei cosiddetti irrintracciabili, persone che letteralmente non si riesce a rintracciare per un telefono sbagliato o altro. Ad Arezzo si arriva anche a 20 casi al giorno. Importantissima per tutti la formazione, già fatta online dalla Regione Toscana ma ad inizio di ogni turno, c'è una sorta di ripasso, ci dicono perché ogni caso è a sé, e man mano che vengono ascoltate le persone e le casistiche, le domande a cui rispondere si moltiplicano. Quali sono le domande, le paure più importanti che sentite dall'altro capo del telefono? Allora, la maggior parte delle persone che contattiamo ha paura e ci chiede dei conviventi, delle persone con cui condividono l'abitazione, magari se ci sono bambini o soprattutto anche persone anziane che sono quelle più sensibili a questo tipo di malattie e quindi avere anche sintomi più gravi. Noi cerchiamo da parte nostra anche di rincorarli, di farli stare tranquilli, per farli vedere che l'Asla è presente, che non si scorda delle persone, che anzi è efficiente e interviene prontamente sul territorio.